stiamo dando diciamo mano all'ultimino all'ultimi sistemamenti vediamo se tutto a posto se tutto a modo regge reggio io controllo perché la la stabilità della cosa perché i tecnici a mettere un po l'occhiato e tecnici non vedo nulla i tecnici quando hanno fatto sto lavoro hanno dovuto valutare il sistema che resisteva che non si sentiva rumore che non dava noia a nessuno che erano forti capito è trovato sto sistema loro capito ma c'è voluto tecnici è trovato il posto del più visibile possibile ma c'è la strada ma sarà visibile sto posto di metterli all'elettorale per poterli leggere se l'elettorale lo c'è anche da sé occhio al ferro quando passa no però il problema è che quando li mettano di qua se qualcuno mi sta spiegando come si fa a vederli dalla strada e più sfortunati mi tocca di qua speriamo che non siano amici mia gente a cui voglio bene a parte voglio bene a tutti no ecco perché dio ma allora mettiamoli e dove si vede la pista ciclabile le vena a portare a capisciare è giusto che veda il cartello però non lo vede di qua non lo vede di qua ma qui c'è quelli che dalla strada come potete vedere arrivano i laggiù c'è l'autoveros e quindi devo stare molto attenta da piano quando arrivano di là della fossa possono vedere bene il nostro cartello l'elettorale che per legge non si accende dalla macchina io ora ho spagnato la foto del cannocchiale poi dopo non solo riguarda un calma a casa chi era la faccia lì fammi vedere se l'aunosco o dire il partito io cerco sempre di venire incontro con la notizia me la faccio toccare con mano qui qui c'è appeso il cartello e uno di là dovrebbe figurati se lo vede ma figuriamo sì pochettino anzi vi voglio far vedere perché a me mi calma entra proprio dal notiziario no ora voglio fare la prova se io ci avessi la macchina ce l'ho però pure non ci vado e se avessi la macchina e passo di là no dalla strada a che distanza riuscirà a vedere il pannello visto e qui c'è voluto tecnici ragazzi i tecnici fammi vedere perché certo c'è venuto tecnici e li buoni i disegni esperti l'occhiali hanno mia e tremo gli occhi perché sti e quelli buoni con farmacia che sono curativi ti curano loro niente dicevo per vedere un po e come si vede la ragione tecnici aspetti un attimo che no niente non voglio neanche interrompe ce la facciamo tutta insieme ragazzo venite con voi venite con me vedete si passa una bella pasqua speriamo che fa la fine della olomba questo gira 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 non posso passava troppo sotto e aspetta se le biciclette o prima o poi ci si farà a passare figurati un po se riesco a passare come faccio a vedere artelli la faccio per dire ferma e si rallenta via via si traversa io ti devi guardare artelli lì perché c'è artelli raggiù c'è l'autoveloz qui c'è l'incrocio e ti che fai stai a guardare se c'è artelli la e a te passi di via come fa questa macchina che arriva ora dietro di me tu e guarda artelli mamma mia la visuale di a 30 40 allora ora siamo seri a fin da ora ma non vedi che mi possono massacrare a me per venire a leggere il cartello di video e come guardano via questa è la distanza minima per poter guardare il cartello e tecnici ragazzi anche l'idea di cambiarli questi tecnici no sempre per dire venite da me vedo io il consiglio dove si possono mettere i cerzini da io proprio mi viene perché o se li mette in piazza in piazza in piazza io ho fatto a pensarci li mette in piazza come da vostri quando vengono messi vanno messi in piazza che è inutile che te li tieni tra quattro minuti grazie non so chi era però è un amico mio sicuramente un amico mio se non mi suonava forse perché ero troppo mezzo alla strada ma insomma comunque per dire qui è il sindaco deve provvedere o se no si cambia sindaco ora è di missionario fuori no non dorme la notte niente e di conseguenza è bel posto parte frana tutto però è bello niente di conseguenza niente da giusto è tutto che siamo al caprona davanti a arpenni tigotacchi più che non ha più ne metta e con giusefino il filtrato speciale boni nel cartello maledetto e giusefino ha fatto un po' del suo niente perché diceva ci sarebbe fino a giusefino il filtroso speciale sempre dentro la notizia mi porta abito non posso andare anche dentro al posto per farvi vedere che si può e che non si può arrivederci tante belle cose alle prossime ciao osina guardavo non si faccia niente ma davvero ma davvero mi vuoi venire a raccontare che quello è un scelare di busti e dai su e si serio come me no dio si no